L'ultima udienza in programma a settembre del 2019 nelle aule del Tribunale Superiore delle Acque a Roma, sezione staccata del Consiglio di Stato, organo amministrativo. In nodo del contendere la richiesta di costruire una centralina idroelettrica sul Brenta da parte di un privato, operazione contro la quale ha fatto ricorso il comune di Bassano. Anche noi di Rete Veneta, pensando alla delicatezza del luogo e il bene dei cittadini, pensiamo che quell'opera non s'abbia da fare. Ed ora ecco l'ultimo sviluppo. L'avvocatura dello Stato fa propria la relazione di Gianberto Pettoello e Angelo Chemin, docenti bassanesi, che spulciando negli archivi comunali hanno scoperto dei vincoli veri e propri, delle regole che risalgono a 1922 e proteggono quel luogo a nord del ponte, sottolineando il pericolo anche per le rive del fiume e per gli edifici circostanti. L'avvocatura dello Stato, quindi lo Stato italiano, ha assunto alla causa, quindi all'interno della causa, una relazione fatta dai professori Pettoello e Chemin, che evidenziano come quell'area fosse già vincolata dal 1922. E' quindi un'area degna di tutela, quindi che non può giustificare costruzioni di quel tipo. In sostanza i docenti hanno portato la loro relazione in comune. L'amministrazione l'ha inviata al Ministero, che ha coinvolto l'avvocatura dello Stato, che manda un messaggio al giudice, che dovrà decidere a settembre, chiedendo di tenere conto della relazione di Pettoello e Chemin. Sicuramente certifica che l'amministrazione comunale ha fatto bene a opporsi a quell'opera, perché non è solo una presa di posizione dell'amministrazione comunale, ma anche lo Stato italiano, quindi l'avvocato dello Stato italiano del Ministero per i beni culturali, ha detto che abbiamo fatto bene ad opporci a questo tipo di iniziativa. Ora ovviamente sarà il giudice in piena autonomia che prenderà la decisione finale. La speranza è che tenga conto della volontà di proteggere il Torrione, i mulini di Bassano, via Pusterla, dai potenziali pericoli. I bassanesi intanto rimangono col fiato sospeso.